Un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale, subito in apertura ai titoli degli argomenti che andremo a trattare. Seduta solenne del Consiglio regionale per la Festa della Toscana La libertà di espressione in tutte le sue forme, questo è il tema centrale dell'edizione 2022 della Festa della Toscana. Il Consiglio regionale ha celebrato la giornata con una seduta solenne che si è svolta al Cinema La Compagnia di Firenze. La scelta della data non è casuale, era il 30 novembre del 1786 quando la Toscana fu il primo Stato ad abolire la pena di morte per volontà di Pietro Leopoldo. Alla seduta erano presenti numerosi sindaci dei comuni toscani e tanti giovani che hanno ascoltato un videomessaggio inviato da Liliana Segre. Queste le parole del presidente della regione toscana Eugenio Gianni. Oggi noi rivendichiamo attraverso questa festa la voglia di essere in prima fila sul piano dei diritti e vogliamo quindi che sul piano internazionale vi sia più solidarietà, più forza e energia a difesa delle donne iraniane che stanno combattendo dopo 43 anni di una repubblica teocratica che sta schiacciando quelli che sono i diritti elementari dell'uomo. La ragazza uccisa perché aveva il burka messo male e che ha scatenato poi quella protesta di piazza dove più di 400 donne e anche uomini sono morti richiede una profonda grande solidarietà. Richiede una profonda grande solidarietà la lotta del popolo ucraino rispetto alla sopraffazione con cui Putin e il suo gruppo dirigente in Russia sta non vivendo un evento bellico ma sta scatenando una serie di violazioni di quello che sono i diritti umani che vediamo ogni giorno. Ospedali bombardati, linee energetiche che significa rivolgersi contro e a danno della popolazione civile che sono continuamente interrotte. Oggi la lotta per la pace ma solidarizzando con chi è sopraffatto dalla volontà di guerra è qualcosa che appartiene alla solidarietà verso il popolo ucraino ma appartiene poi a tutti i conflitti che nel mondo ci sono. La Toscana è stata e sarà terra di diritti. Oggi siamo qui a festeggiare la festa della Toscana per ricordare quando nel 1786 Pietro Leopoldo abolì, primo stato al mondo, prima regione al mondo, la pena di morte. Ma noi ogni anno vogliamo attualizzare questo messaggio. Abbiamo iniziato confrontandoci sul tema dei diritti digitali, poi della lotta al late speech, alle parole violente e oggi la libertà di espressione. Il compito delle istituzioni, della politica è quello di mandare dei messaggi chiari e il messaggio che vogliamo mandare alle ragazze e ai ragazzi più giovani è quello di non essere mai indifferenti, di non voltarsi dall'altra parte anche quando alcune questioni sembrano lontane da noi. Pensate a quello che sta accadendo in queste settimane, in questi mesi in Iran, pensate a quello che sta accadendo non lontano da noi nella guerra terribile in Ucraina, tante donne e tanti uomini non hanno più la possibilità di esprimere un pensiero libero e come purtroppo ancora oggi nel mondo ci sono più della metà degli stati che applicano la pena di morte così in tante troppe realtà è stato vietato poter esprimere un pensiero libero. E noi oggi vogliamo mandare questo messaggio forte che è un messaggio di civiltà e la Toscana come sempre vuole essere parte attiva perché la Toscana è sempre stata una terra che non si è voltata dall'altra parte. Tra gli interventi più attesi quello della Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Maria Chiara Carrozza e di Federica Angeli, cronista di Cronaca Nera e Giudiziaria per il Quotidiano La Repubblica, nota per le sue inchieste sulla mafia romana, in particolare quella attiva ad Ostia. Il CNR ovviamente è in prima linea come difensore e anche come ente che tutela la libertà e l'iniziativa della ricerca e l'autonomia della ricerca. Quindi sta anche a noi riuscire a garantire a tutte le ricercatrici e ricercatori questa libertà con i fondi, le infrastrutture e la programmazione della ricerca. Questo è un valore su cui si fonda poi il progresso scientifico, l'abbiamo visto molto bene con i vaccini. I vaccini hanno avuto bisogno di diverse prospettive, anche della concorrenza di diverse tecnologie e poi del metodo scientifico per valutare e validare quella migliore. Senza questa libertà anche di presentare diverse tecnologie e soluzioni la ricerca non va avanti. Tanti momenti di sconforto in cui ho pensato che fosse giusto mollare, che ormai il mio l'avevo fatto, però poi vince sempre appunto la voglia di andare a vedere veramente come finisce questa storia e quindi mi rialzo e mi rimetto in carreggiata per combattere. Però è veramente sfiancante. Io porto il sorriso perché loro tra le varie minacce mi scrissero sui social e anche sotto casa su un muro ti toglieremo il sorriso. Io lo porto finché riesco e quindi continuiamo a combattere la mafia anche a colpi di sorriso. Abbiamo raccolto le dichiarazioni di alcuni consiglieri regionali in occasione di questa giornata. Oltre due secoli di storia di libertà, uno Stato come il nostro è stato in grado in tempi non sospetti di abolire la pena di morte, la tortura. Oggi la nostra festa torna a essere molto attuale se pensiamo a quanto sta succedendo in Iran, quanto è complesso nel mondo oggi manifestare il proprio pensiero, la propria libertà e soprattutto quanto sia difficile per tante donne, per tanti uomini manifestare liberamente le loro opinioni. Quindi la festa della Toscana torna protagonista non soltanto per la Toscana ma per mandare un messaggio al mondo di libertà e soprattutto per chiedere rispetto dei diritti umani e soprattutto per portare le donne di tutto il mondo ad essere libere di potersi esprimere e con loro tutti i ragazzi e le ragazze che stanno combattendo penso in Iran per la loro libertà. Fa riflettere una cosa però e ogni tanto dovremo fare anche un po' di autocritica perché va bene tutto, va bene raccontare la storia dei giovani ragazzi iraniani che stanno lottando per la libertà, va bene difendere i diritti e farci portatori di diritti, magari riflettiamo anche sul fatto che mentre noi siamo qua a parlare di legalità e di rispetto dei diritti lo show business e l'economia mondiale hanno deciso di giocare la massima rappresentazione sportiva al mondo in un paese, il Qatar che non mi pare sia un baluardo dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e della tutela della vita di fronte alla pena di morte. Quindi ogni tanto un po' meno di ipocrisia da chi muove il mondo dello show business, dell'economia e anche dello sport perché lo sport è portatore di grandi ideali e quando lo sport china la testa di fronte all'economia, ai soldi e al dio denaro si perde una bella fetta. Ho sentito prima la professoressa Carrozza che parlava di tramandare gli insegnamenti ai ragazzi. Ebbene quando si insegna ai giovani lo sport è una delle scuole più importanti per i giovani e allora non si può insegnare a un giovane ad andare in campo e usare i calciatori come testimonial quando servono delle grandi battaglie ma poi quando arriva il Qatar che paga ci portiamo ai mondiali di calcio. Quello è un disinsegnamento che si fa ai giovani. Ancora una giornata importante per la Toscana che rinnova la sua festa parlando dell'articolo 21 della Costituzione. Libertà d'espressione ci fa capire che quando questa libertà non c'è ci manca, è un po' come l'aria e questo è il punto fondamentale. Ma un altro aspetto che dobbiamo assolutamente chiarire è che quando i nostri padri costituenti hanno pensato a questo articolo sicuramente hanno pensato anche a come i cittadini, coloro che poi vanno a leggere i giornali, la stampa, vanno a sentire proprio quelle espressioni che molto spesso non ci aggradano o sono espressioni anche forti che vanno poi al di là e sul limite anche lo vediamo oggi sui social, delle offese, tutto è permesso. Questa è una libertà però importante. Quello che dobbiamo capire ed educare soprattutto le ragazze e ragazze a partire dalle scuole anche con quella educazione civica che è fondamentale nel nostro sistema educativo è il senso critico. Cioè dare veramente la dimensione di cosa ciascuno di noi può valutare ricependo questa libertà di espressione di stampa. Quindi tutto si può scrivere, tutto si può dire ma poi dipende da noi valutare e capire con senso critico quello che è giusto e quello che non lo è. Così al centro della festa di quest'anno la libertà di espressione e quanto oggi la limita. Non sono le solite idee, noi pensiamo sempre alla violenza, all'oppressione, in realtà ci sono condotte più striscianti e pericolose che limitano la libertà di espressione. Stamattina abbiamo assistito al racconto di Federica Angeli e del suo difficile lavoro di giornalista di inchiesta a confronto con la criminalità organizzata che la porta a vivere sotto scorta. Ecco lei ci ha ricordato come uno dei principali fattori limitanti della libertà di espressione è il cedere all'omertà. Lei ha resistito ma questo richiede molto coraggio e non dobbiamo aver bisogno di eroi, dobbiamo praticare tutti e possiamo fare una cultura della non-omertà, non-omertosa che chiama le cose con il loro nome. L'altro grande pilastro abbiamo ascoltato stamattina Maria Chiara Carrozza, presidente del CNR, è la conoscenza perché soltanto la conoscenza, il possesso di molte parole, di molte categorie per chiamare i fenomeni rende davvero liberi e mette in condizioni di esercitare una piena libertà di espressione. Ecco non-omertà, conoscenza, due capisaldi di una piena libertà di espressione ed è bello che la festa della Toscana parta proprio da qui in un tempo nel quale la comunicazione, la narrazione dei fenomeni è importante per poter aggregare pensiero, idee e poi comportamenti civili. Ci sono oggi a parlare con noi due grandi donne che hanno sfondato il tetto di cristallo e hanno dato un grande contributo alla libertà e alla conoscenza del nostro paese. Il richiamo che è stato fatto da Federica Angeli, dal coraggio col quale ha affrontato la criminalità di Roma, ci impone anche come istituzioni il coraggio di ricordare tutti gli altri giornalisti, quelli che oggi non possono essere qui a ricordarceli e quello che non lo possono fare perché sono privati della loro libertà. Jamal Khashoggi che è morto per aver criticato un governo che di democratico ha poco e Daphne Caruana Galizia che ha combattuto, la blogger e giornalista maltese che ha combattuto la corruzione del suo paese e ha pagato con la vita il suo impegno. E poi ricordiamo anche Julian Assange che oggi è privo della sua libertà perché ha dichiarato di fronte al mondo ciò che alcuni paesi non volevano che venisse conosciuto. Allora come istituzioni abbiamo il dovere anche di ricordare tutti questi giornalisti che ogni giorno perseguono le loro attività in nome della libertà di stampa, di conoscenza, di giornalismo, in nome della libertà di tutti noi di conoscere come davvero stanno le cose, contrarie al mainstream e soprattutto contrarie a tutto ciò che si oppone alla libertà e alla giustizia. Oggi dobbiamo ricordare anche loro e lo dobbiamo fare perché è un dovere innanzitutto come istituzioni per quello che fanno giornaliste come Federica Angeli. Di fronte a quello che sta avvenendo oggi nel mondo dove vediamo anche delle ribellioni, vediamo anche delle coraggiose espressioni di richiesta di libertà che avvengono da parte di qualche nazionale calcio nel mondiale che si sta discutendo in Qatar, lo vediamo da parte delle donne iraniane, insomma vediamo delle richieste forti e coraggiose affinché la libertà di espressione possa fermarsi. Quindi dedicare la festa della Toscana all'articolo 21 della Costituzione credo che sia una scelta azzeccata e credo che la Toscana debba giocare un ruolo in tutti i contesti istituzionali, sociali, nazionali e internazionali affinché veramente la libertà di espressione diventi un diritto di cui tutti possono godere. E dobbiamo ancora batterci perché vi sia concretezza anche nell'attuazione davvero di disposizioni come l'articolo 21 della Costituzione. Tutti hanno il diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di espressione. Quanto è bella la nostra Costituzione, quanto dobbiamo impegnarci per dare vita concreta. La Toscana è sempre stata all'avanguardia dal punto di vista dei diritti e sempre dovrà esserla. Un altro grande esempio è quello del legame con le amministrazioni locali e qui sono felice di aver dato il mio contributo affinché venisse data la spilla con il Pegaso, il nostro Pegaso, ai sindaci della Toscana. Un ulteriore collegamento tra la regione e le amministrazioni locali. Credo che si possa fare decisamente molto con un lavoro di squadra, con la sinergia giusta. Il corteo storico, arricchito dai gonfaloni dei comuni toscani, ha poi chiuso la seduta solenne del Consiglio regionale, da Palazzo del Pegaso fino all'arengario di Palazzo Vecchio. Nel pomeriggio il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha deposto un fiore sulla tomba di Gregory Summers, giustiziato in Texas nel 2006 e sepolto per sua volontà nella cimitero di Cascina. Dopo la tappa nel comune Pisano, Mazzeo si è recato al santuario di Montenero. La Madonna di Montenero nel 1947 fu dichiarata da Papa Pio XII Mater Etrurie, ovvero patrona della Toscana. La festa della Toscana si è poi conclusa sul palco della città del teatro, sempre a Cascina, con lo spettacolo Voci di Libertà.